Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Stoppa le corse contro il tempo per il ritiro dei sacchi della raccolta differenziata di plastica e rifiuti indifferenziati nel comune di Sant'Egidio alla Vibrata. Grazie all'apposito distributore automatico collocato sotto al municipio in piazza Umberto I, ogni utente può ritirare il proprio sacco quando è più comodo. Differenziare è un dovere verso l'ambiente in cui viviamo e verso i nostri figli. Abbiamo l'obbligo di lasciare un paese sostenibile e vivibile, spiega il primo cittadino Elicio Romandini che informa i cittadini sulla modalità di ritiro dei sacchetti della spazzatura. I cittadini si possono servire di questo distributore in qualsiasi momento della giornata, nei giorni festivi. Quando vogliono devono solo munirsi di tessera sanitaria, inserirla. C'è un programma che registra le quantità o la quantità di buste che ha già ottenuto. Possono essere date tre buste della Terna ogni tre mesi. Molto semplice, tra l'altro qui ci hanno detto qualche persona anziana che ha qualche difficoltà a recarsi qui a ottenere le buste. Ci sono sempre i ragazzi, tutte le mattine ma anche di pomeriggio, del servizio civile che qualsiasi persona a difficoltà possono comunque recarsi qui a piano terra del comune e saranno istruiti e aiutati ad avere le buste ma è molto molto semplice. Dico anche che a parte le persone anziane può venire chiunque, possono venire i figli, possono venire i ragazzi, i giovani, i nipoti. Quindi l'essenziale è essere muniti di tessera sanitaria e la tessera sanitaria relativamente alla persona che comunque è iscritta come pagamento o iscrizione tari qui al comune di Sant'Egidio.